Paziente con rischio elevato, il vaccino potrebbe peggiorare la mia malattia? Assolutamente no, un paziente che ha un rischio elevato come lei deve vaccinarsi perché il vaccino la protegge dal decorso della malattia del Covid che spesso nelle persone che hanno una patologia è molto più pericoloso, ovvero il decorso porta a conseguenze gravi come l'ospedalizzazione e la terapia intensiva. Quali sono le patologie che mettono una persona a rischio? Per esempio un diabete complicato, malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, malattie autoimmuni o persone che per motivi, ad esempio tumori, devono prendere terapie, chemoterapie, dove il sistema immunitario è poi debilitato a causa delle terapie a volte. Queste persone in particolare si devono vaccinare e i vaccini assolutamente non provocano un danno all'organismo ma provocano una risposta mirata contro questo virus. In particolare i vaccini a mRNA come sono il Pfizer e Moderna utilizzano un meccanismo in cui c'è un filamento di mRNA che entra nel citopasma della cellula e induce la cellula a produrre le proteine spike contro le quali poi l'organismo sviluppa una risposta immunitaria.